per dare una risposta che tutta la nostra regione aspetta ormai da troppo. Nuove sinergie e meno burocrazia sono gli obiettivi condivisi da politici e istituzioni per colmare il gap infrastrutturale della regione, fare squadra per lo sviluppo di progetti comuni è stato infatti uno dei temi affrontati dai vertici di confartigianato di Ancona, Pesero Urbino a confronto con il sottosegretario cancelliere, regione, autorità portuale e comune di Ancona. Il convegno dal titolo Le infrastrutture come volano dell'economia si è svolto nel centro direzionale dell'associazione di categoria. I tempi noi speriamo che siano molto brevi, per molto brevi io intendo naturalmente 3-4 anni che potrebbero essere ottimali secondo noi, anche perché molti progetti sono già stati discussi, dibattuti e diciamo anche accettati. Mancavano sempre i soldi, mancavano sempre i fondi, il PNRR dovrebbe essere lo strumento giusto anche perché non ci illudiamo che questo sistema di finanziamento vada immediatamente a favore delle piccole imprese. Questo è un sistema di finanziamento che ci rendiamo conto benissimo andrà a favore di grandi progetti, ma se i grandi progetti servono poi a far correre le piccole imprese ben venga anche questa modalità e noi siamo pronti come mondo delle imprese a intercettare il possibile i benefici che possono avvenire da queste soluzioni. Per superare la pandemia con grande resilienza, poi aggiunto il segretario Perpaoli, bisognerà essere veloci nei cambiamenti anche per competere sul panorama internazionale. La priorità è utilizzare tutti i fondi che sono a disposizione della regione e del governo per far sì che le marche, come ha evidenziato il ministro Giorgetti, non siano isolate e irraggiungibili. Oggi per fare imprese le imprese hanno necessità di un contesto favorevole, fare imprese in Italia è sempre più difficile e il tema delle infrastrutture materiali, nel caso di questa sera, ma anche i materiali sono essenziali oggi per fare impresa in un contesto globalizzato potendo concorrere. E dal governatore Francesco Acquaroli l'impegno a fare presto, bene e soprattutto in sinergia. Oggi noi siamo su tanti tavoli impegnati per cercare di recuperare un gap che comunque determina un ritardo infrastrutturale importante e per cercare di mettere in rete e in squadra tutte le sinergie possibili affinché con il PNRR e con le opportunità che in questo momento ci possono riguardare, inteso anche con l'ANAS, il Corridoio Adriatico con la Società Autostrade, l'Alta Velocità, la Orte Falconara e tante altre infrastrutture, la Fano Rosseto, la Salaria, possono diventare determinanti per rilanciare quanto prima il nostro territorio.